da Montemurlo torniamo a Prato, campionati studenteschi da quest'anno extra sponsor unico Eleonora Barbieri 8805 studenti coinvolti tra medie inferiori e superiori, 124 professori, 112 gare, 43 discipline, 21 comuni interessati, 70 istituzioni scolastiche sono i numeri dei campionati studenteschi di Prato e di Pistoia promossi e organizzati ogni anno da Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Cogni e Comitato Italiano Paralimpico che da quest'anno vedranno la partnership di Estra, sponsor unico delle manifestazioni sportive sulle due province Estra è sempre stata legata e ha legato sempre il suo nome al mondo dello sport, un antidoto, un altro modo di formarsi, un altro modo di entrare in contatto con altri ragazzi e ragazze è un altro modo per conoscere il mondo e io penso che per una grande azienda come Estra, essere partecipe diciamo con il sostegno a questo tipo di iniziative penso che sia una cosa molto importante A Prato i campionati studenteschi sono iniziati il 23 gennaio con la Corsa Campestre che ha visto impegnate 20 scuole secondarie di primo e secondo grado e un migliaio di studenti, proseguiranno fino alla fine dell'anno scolastico Le manifestazioni sportive coinvolgono 17 istituti comprensivi, 8 scuole superiori, 4.000 studenti e un centinaio di professori Numerose le discipline previste, atletica leggera su pista, corsa campestre, badminton, calcio a 5 a 11, orientering, palla a mano, palla a volo, bici volley, palla a canestro, rugby, scacchi, tennis, tavolo, tiro con l'arco, nuoto, sci alpino, snowboard, tennis Al di là del supporto concreto che ci dà Estra, per noi è importante anche che appunto venga condiviso lo spirito di questa iniziativa quindi dei campionati studenteschi e ci sembra appunto che Estra rispecchi questi valori che condividiamo e quindi diciamo che questo è l'anno da cui parte una collaborazione che ci auguriamo possa proseguire anche per gli anni scolastici successivi e quindi ci sembra anche per gli anni scolastici successivi